Eccoci quindi qui ragazzi, allora, dopo il video di stamattina in cui ho analizzato con voi in maniera più tranquilla e approfondita la partita di ieri sera e in generale quello che sta succedendo all'ambiente giallorosso, eccoci qua in un video in cui parleremo e analizzeremo insieme le parole dette nel post partita del mister Claudio Ranieri. Delle parole che non sono state le classiche di circostanza del tipo eh abbiamo giocato male, potevamo fare di più, onore agli avversari eccetera eccetera, ma sono state parole secondo me molto importanti che mi hanno fatto capire una cosa insieme anche a quello che mi ha detto in privato Lorenzo figlio di Roma che saluto e ve lo dico, sta bene tranquilli non vi preoccupate, che Claudio Ranieri sta parlando già da dirigente giallorosso, una cosa secondo me giusta, una cosa sicuramente giusta perché è una persona capace, una persona intelligente, una persona che in una dirigenza fa sempre comodo secondo me. Innanzitutto ha messo i giocatori spalle al muro ed è una cosa che Di Francesco non aveva fatto praticamente mai o perlomeno non in maniera così esplicita. Ha detto palesemente che abbiamo perso contro una squadra che guadagna molto meno di noi. Quindi ha fatto capire fin da subito che molti giocatori nella rosa giallorossa prendono più di quanto meritano. E questa è una cosa che in molti non hanno detto ma è sacrosanta da dire perché ok tu ci può stare che perdi una partita contro un avversario più debole, cioè una squadra non è che può vincerle tutte, però il fatto che loro ci abbiano messo più impegno, più grinta, più sacrificio è una cosa inammissibile perché tu comunque sei la Roma, cioè io ammiro la partita che ha fatto la SPAL perché nonostante non sia stata eccelsa ci si sono impegnati fino all'ultimo. Noi che riprendiamo 3 milioni l'anno, 4 milioni l'anno, 2 milioni e mezzo l'anno abbiamo camminato. Questa è una cosa inammissibile e non ha detto effettivamente che abbiamo camminato ma è proprio così il senso, cioè abbiamo perso tutti quanti i duelli aerei, gli hanno fatto questa domanda e lui ha detto sì è vero, sì è vero, lo hanno deluso, si vesto palesemente dalla sua faccia che lo hanno deluso tutti quanti ed è una cosa inammissibile se la maggior parte dei giocatori prende uno stipendio faraonico rispetto alle prestazioni che fanno. Questo è un aspetto secondo me molto molto importante e poi ha detto un'altra frase, non vi dico tutto quanto in intervista però ho deciso di prendere i cardini più importanti per fare questo video, ha detto palesemente che se si arriverà in Champions ci sarà un progetto adeguato, se non si arriverà in Champions ci sarà un altro tipo di progetto e, udite udite, molti giocatori faranno le valigie. A parte che questa può essere anche una frase di incitamento per i giocatori per andarsene ancora di più a fanculo, cosa che secondo me sperano a questo punto perché se vogliono effettivamente rimanere alla Roma non capisco il perché del loro atteggiamento, Ranieri gli ha fatto capire palesemente con queste parole che o si impegnano e dimostrano di essere da Roma o a fine anno se ne vanno a fanculo. Non ha detto a fanculo perché lui non è così e non lo dirà mai, però lo ha fatto capire palesemente e questa è una cosa molto importante perché finora abbiamo sempre detto che i giocatori non sono stati messi in campo bene o altro, abbiamo sempre cercato di dare la colpa più al modulo, più all'allenatore, queste cose qua, però la colpa per me principale, c'erano i giocatori non tanto dal punto di vista degli errori individuali ma proprio degli impegni, cioè io ho visto giocatori camminare al cinquantesimo del secondo tempo, parlo ovviamente del cinquantesimo della partita, e non va bene questo, non va bene perché tu per i milioni che prendi e per l'impegno che mettono anche i tifosi nel vedervi allo stadio, tu dovresti arare il campo, come ha detto lo stesso Ranieri nella sua prima conferenza, dovresti mangiarti il campo ed è inammissibile vedere un atteggiamento così da parte dei giocatori in campo, non c'è sacrificio, non c'è volontà, non c'è unione di gruppo, non c'è il gruppo perché il gruppo non è unito e vanno ognuno dove cazzo gli pare, vanno ognuno dove cazzo gli pare, lo dico due volte, e questo non va bene, questo non va bene perché devono capire che stanno indossando una maglia importante, una maglia di una squadra che per carità non avrà vinto chissà quali trofei a livello mondiale e a livello nazionale, ma è una squadra importante, è una delle squadre più importanti in Italia, cioè non sarà più importante ma bisogna comunque onorarla, cioè secondo me questi giocatori veramente per l'atteggiamento che ha avuto la società negli ultimi anni si sentono troppo di passaggio e non va bene questo, cioè Ranieri le ha messi spalle al muro e ha fatto capire, voi siete in questo momento alla Roma, dovete onorare questa maglia, non potete pensare che siete qui e tanto a fine anno me ne vado, chi se ne frega, no! Anche perché poi, scusatemi tanto, pensate che quanto sono mediocre alcuni giocatori, se voi giocate così male con la Roma, ma che pensate che a fine anno vi prende il Barcellona? Mica siete tutti buateng che pur facendo una stagione buona è stato preso dal Barcellona? Voi più giocate male e più vi rovinate la carriera, non potete pensare che andando via chissà cosa vi succede, voi dovete impegnarvi fino all'ultimo secondo, dovete sputare il sangue per questa maglia, poi in futuro si vedrà, poi in futuro potrete andare al Real Madrid, al Barcellona, come potrete andare al Bologna, alla Spal, al Frosinone, però fino a questo momento voi siete stipendiati dalla Roma, prendete valanghe di milioni e ve l'ha detto anche il mister, ve l'ha detto, che è inammissibile perdere e giocare così male contro avversari che prendono molti milioni in meno di noi ma ci hanno messo due palle e così, è una cosa inammissibile secondo me. Questo è stato il senso del discorso dei raniere, un discorso che ha fatto capire ai giocatori che non va bene quello che è successo in campo, ha fatto i complimenti alla Spal e come disse nel video di Simeone è una cosa che i non molti fanno e mi complimento con lui perché dopo una partita del genere era difficile fare i complimenti ma non perché non se li meritano ma perché comunque ci sta a rosicare dopo una sconfitta e così invece è stato veramente un signore, un lord inglese potrei oserei dire e quindi è stata un'intervista secondo me molto importante perché ha fatto capire sia quanto lui ci tenga effettivamente alla Roma e come gli dia fastidio vedere la squadra giocare così e perdere così perché lui è veramente un tifoso romanista dentro e ha fatto capire ai stessi giocatori che o si impegnano per giocare con la Roma o se ne vanno ma non è detto che andando se ne faranno meglio perché ti potrebbe prendere una squadra ancora più scarsa e dopo sono cazzi tuoi. Comunque in generale concludendo così il video si vede palesemente quanti errori abbia fatto la società giallorossa non solo negli acquisti effettivi ma anche negli stipendi perché vedere giocatori stipendanti così tanto per poi rendere praticamente la metà di quello che prendono ancora meno della metà di quel che prendono ci fa capire quanto effettivamente sia stata sbagliata la campagna acquisti della squadra giallorossa non tanto nelle cessioni ma soprattutto negli acquisti perché se tu cedi bene per prendere male non risolvi un cazzo. Detto questo ragazzi questo era il video sull'intervista di Claudio Lanieri fatemi sapere cosa sotto nei commenti cosa ne pensate e se riuscirò a vederla ci vedremo questa sera con la recensione del derby di Milano. Un saluto e sempre Forza Roma. Ciao ragazzi!